Ai nastri di partenza i candidati delle tre liste che si sfideranno per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Teramo. Le liste depositate sono state sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto e composte da un massimo di 12 nomi nel rispetto delle norme della parità di genere. Il corpo elettorale è stato ufficialmente stimato in 611 votanti tra consiglieri comunali e sindaci, divisi in 5 fasce ponderali su base demografica. A pesare di più saranno i grandi comuni come Teramo, Giulianova e Roseto. Ad animare questa elezione di secondo livello che si terrà il 18 dicembre prossimo, quest'anno c'è una novità rappresentata da Renew Teramo. Si tratta di una lista civica che fa riferimento al gruppo liberale Renew Europe presente al Parlamento europeo e nel quale di recente è confluito anche l'eurodeputato Carlo Calenda e il gruppo Ammarsh di Macron. A Teramo gli ispiratori del nuovo raggruppamento sono Paolo Gatti e Giulio Sottanelli. Il centro-sinistra invece ha presentato una lista unitaria, la Casa dei Comuni. La lista è formata da 12 candidati, 7 uomini e 5 donne e vede al suo interno tutte le anime che attualmente compongono il centro-sinistra Teramano, dall'ala centrista e moderata, passando per il PD fino ad articolo 1 e insieme possiamo. È facile supporre che i candidati del centro-sinistra possano essere appoggiati anche dai 5 Stelle che nell'ultima votazione si erano ufficialmente astenuti. Arriva sul filo di lana la presentazione della terza lista in corsa dove è rappresentato il centro-destra unito e che vede schierati i partiti ufficiali di Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Idea di Quagliariello. Il nuovo consiglio provinciale sarà composto da 12 consiglieri che storicamente si sono sempre divisi in ugual numero, 6 e 6, e poi il voto del Presidente a fare la differenza. C'è un ritrovato interesse politico sulla provincia, un ente strategico che probabilmente tornerà a riacquisire a livello istituzionale l'importanza del passato.